benvenuti amici vavers benvenuti canale youtube lisvapo e io sono mister nino tata trattino basso tnt andiamo a portare in recensione un nuovo prodotto di snow wolf la m fang una box dual battery che arriva a 200 watt dove propone la sua box con un logo 3d il rilievo del lupo atomizzatore in combo nel kit da 6 ml con due resistenze con due coil prefatte una da 0,16 e una da 0,20 inspira all'invertical ragazzi sigla e recensione snow wolf m fang la pd kit è il modello è la versione che ho scelto di recensire perché limited edition ovvero questa colorazione bianca sul nero con la particolarità del logo snow wolf in 3d qui al lato il nome del kit ovvero il nome della box m fang dietro alcune specifiche della box cosa contiene la confezione ormai le classiche specifiche d'obbligo da dover inserire per la vendita per il commercio i codici qr 1 vi porterà direttamente sullo store di sigelei per l'acquisto del contenuto per l'acquisto della box ed infine uno vi porta su il sito di snow wolf qui invece al lato il codice di autenticità del prodotto ed un codice a barre andando ad aprire la confezione troviamo snow wolf dorato sul nero e all'interno della confezione troviamo libricino della m fang che ci spiega chiaramente con delle figure molto pratiche da capire il suo funzionamento ed infine le combo da utilizzare qualora siamo interessati vedete qui ci sono i due titi che vanno a spingere il tasto più e meno e ci indica praticamente quello che comporta andando a pieggiare i tasti ovvero blocco tasti blocco della resistenza e il controllo delle batterie qui invece la ricarica della batteria che loro chiedono assolutamente di caricarla tramite caricatore a muro io invece consiglio assolutamente di caricarla tramite caricatore esterno libricino di istruzioni libricino dell'atomizzatore dato in combo nel kit ovvero i wolf tank un atomizzatore a testine la capacità di capienza è 6 ml ed infine codice il security code come funziona quindi andremo a grattare per poi andare a riscontrare se effettivamente il codice di autenticità sul sito è autentico le varie garanzie per il mondo ed infine il codice di qualità che è passato allora atomizzatore dato nel kit si chiama lo snow wolf tank è quindi correlato in combo dello stesso colore della box lo andiamo a vedere insieme più avanti doppio vetrino bubble perché avrà come vi dicevo una capienza da 6 ml e due resistenze vediamole subito le resistenze sono spiral in vertical nel kit sono presenti due resistenze ovvero una da 0,20 e una da 0,16 allora vi volevo far notare quanto poteva essere effettivamente grande la resistenza e gli spazi per l'assorbimento del cotone sono adeguati per andare ad assorbire liquidi quindi densi ovvero un 70 30 un 80 20 in più o lo stesso atomizzatore di una differente colorazione nera dove andrò ad abbinare alla mia snow wolf invece dell'atomizzatore bianco vorrò andare ad utilizzare appunto l'atomizzatore in combo nero perché mi piace di più allora le caratteristiche dell'atomizzatore sono 25 mm alla base pin non molto sporgente quindi ideale adatto esclusivamente per box elettroniche dove il diametro massimo dell'atomizzatore arriverà grazie a questa sporgenza del vetrino bubble a 28 mm la capienza massima del liquido è di 6 ml atomizzatore costruito in acciaio inossidabile 303 la particolarità che mi è piaciuta di questo atomizzatore ultimamente tanti atomizzatori so per andare a fare il refill bisognava andare a praticamente c'era uno scorrimento della parte superiore per poter andare accedere a mettere liquido qui invece tornano come una volta con una ghiera quindi basterà svitare per andare ad accedere all'unico alloggio all'unico vano per poter mettere il liquido questa la cosa la trovo molto molto importante ragazzi perché avendo provato e testato tanti atomizzatori la qualità costruttiva era molto comoda del sistema basculante ma mi sono accorto che andando avanti col tempo si allentava un po di liquido un po di condensa e la chiusura diventava molto lenta ciò mi risultava molto scomodo magari portandolo in borsa mi ritrovavo top cap aperto adesso nuvol fa voluto ridurre la probabilità che si possa aprire in condizioni accidentali quindi proponendo appunto questo sistema a vite che quindi devo dire questa parte si va ad incastrare direttamente e la trovo quindi molto molto interessante atomizzatore con tre sistemi di airflow 1 2 e 3 e questo è da condividere con tutti gli atomizzatori presenti sul mercato perché con un tipo di resistenza così bassa magari stiamo parlando di una 0 15 di una 0 16 infatti all'interno io ho installato la 0 16 voglio inizializzarla con voi andrò a utilizzare un liquido di ls project ovvero uno stoccolma una deliziosissima sbriciolata al limone voglio levarvi la resistenza vi faccio vedere al suo interno il deck quindi laccato in oro per avere una maggiore conducibilità andiamo a sterrare inizializziamo la coil bagniamo quindi le parti del cotone visive che sono quattro e facciamo cadere abbondantemente liquido all'interno della coil affinché il cotone possa iniziare ad assorbire il tutto andiamo a richiudere e come vi dicevo il refill andiamo ad aprire ed andiamo ad inserire il nostro liquido 6 ml per un atomizzatore con delle coil così basse amici miei trovo veramente una capienza veramente adeguata o la versione che state vedendo voi non è la versione europea o per la vendita per l'italia la versione per l'italia avrà un adattatore che per la vendita è obbligatorio avere ecco vedete sta già pescando il liquido dove questo adattatore ridurrà notevolmente la capienza dai 6 ml e la porterà due questo grazie alla tpd lo vado a posare un attimo e vi faccio vedere sezionato l'atomizzatore in tutte le sue parti quindi deck resistenza la parte del tank e come vi dicevo ecco qua ragazzi molto semplice uno per la pulizia due per andare a sostituire la coila adesso rimontiamo tutto snow wolf kit eccola qui amici schermo centrale a colori da 1,3 pollice due porzanti di regolazioni quindi qua al lato laterali quale spingete avrete sempre erogazione quindi a seconda dell'impugnatura potete spingere il pulsante alto potete spingere il pulsante basso o a seconda anche il pulsante centrale la box si attiverà comunque quindi vista frontale il login of the wolf lo schermino a colori i tasti dello stesso colore più o meno e la porta usb per i futuri aggiornamenti del firmware che saranno presenti sul sito snow wolf questa parte è gommata dove qui vi faccio vedere è leggermente rialzata quindi la linea posso dire che è veramente molto aggressiva pin ammolla tazza con attacco 510 il pin è spaccato quindi oltre che ad essere ammolla autoregolante è possibile avere un'ulteriore regolazione la parte dove snow wolf punta molto è praticamente il logo in 3d con il lupo cosa che può piacere o non piacere ragazzi io non lo metto in dubbio è una cosa veramente molto soggettiva però gradisco molto che il logo messo in rilievo non abbia praticamente gli occhi con i led che si accendono ho comunque un disegno molto particolare che ripropone su tutta la box vi dico subito le dimensioni sono 91,5 x 49 mm per la larghezza massima di 30 mm in grado da poter ospitare i 25 mm dell'atomizzatore dato in kit fino ad espandersi a 28 mm monterà una doppia batteria 18 650 questo lo sportellino con quattro grandi magneti inseriamo subito due batterie la prima polo positivo verso il basso la seconda polo positivo verso l'altro o amici non ci sono filetti per l'estrazione delle batterie questo perché sarà facilissimo andarle ad estrarle senza problemi una volta inserite le batterie riproponiamo il coperchio ragazzi ma avete sentito che presa che fa ok lo sportellino non fa assolutamente gioco cinque click per l'accensione cinque click per lo spengimento continua continuiamo ad andare avanti vi dico subito le caratteristiche tecniche che prima non vi ho letto allora range di uscita avrà un minimo di 10 watt fino a fino ad arrivare ad un massimo di 200 watt la gamma di uscita di tensione invece da 1 fino a 7,5 la box è in grado di leggere resistenze fino ad un minimo di 0,05 ohm questo sta a significare che se non volete utilizzare il dispositivo con l'atomizzatore in kit potete montarci qualsiasi atomizzatore voi vogliate montarci che sia un rta che volete andare in cloud quindi avete il vostro gun eccetera eccetera la box si comporta molto bene allora io la giro la rigiro la guardo ve la faccio vedere non ci sono effettivamente fori o sfiati per le batterie queste sono cose che io vedo e vi voglio fare presente la box andrà in controllo di temperatura e leggerà ni 200 titanio e acciaio o l'acciaio avrà tre materiali disponibili al suo interno 304 316 e 317 in più il tcr che è la possibilità di andare a inserire i coefficienti che troviamo su internet per andare ad inserire nuovi materiali in più la funzione di pre hit ovvero di preriscaldamento allora amici come vi dicevo in precedenza voglio utilizzare l'atomizzatore di colore nero perché mi piace molto la combo che esce fuori allora vi dicevo le combinazioni dei tasti sono tasto fire e tasto più avremo la lettura indistinta delle due batterie adesso sono a piena carica infatti mi legge una 4,04 volt l'altra 4,06 volt tenendo invece premuto il tasto fire adesso lo spingiamo da sotto tenendo premuto il tasto fire ed il tasto meno invece andiamo nel blocco dei tasti o ragazzi in questo modo andiamo a bloccare i tasti più o meno ma l'erogazione sarà sempre attiva infine ultima combo sono i tasti più o meno dove serviranno quando andiamo ad utilizzare il tc ovvero il controllo della temperatura perché andrà praticamente a bloccare il valore della resistenza o benissimo questo è il display a colori lo andiamo a leggere subito in alto il valore della resistenza 0 16 la legge ecco qua ragazzi 0 16 la legge la legge 0 18 per difetto per eccesso ci possiamo stare infine qui centrale la predisposizione dei nostri watt io adesso ripropongo il blocco tasti così posso farvi vedere la velocità che intercorre tra un minimo di 10 watt come vi dicevo e quanto ci possa mettere allora con il tasto più ragazzi saliamo piano piano tenendo invece premuto consecutivo scatterà da 22 23 24 quindi andrà da un watt ad un watt quindi 80 100 aumenta la velocità fino ad arrivare ad un massimo di 200 watt che è l'erogazione che snow wolf ha impostato per poter erogare con questa box grazie all'alloggio delle due batterie 18 650 adesso la 160 poi vado a sistemare qui c'è il lucchetto che in questo momento aperto l'erogazione normal qui invece ci da watt perché stiamo utilizzando il power qualora stavamo utilizzando il controllo di temperatura ci sarebbe stata la presenza del materiale e qui la scelta dei gradi ed infine la carica residua della batteria menu ragazzi semplicissimo tre clic per entrare nel menu entriamo nel mode ovvero come vi dicevo la modalità power la modalità tcr e ovvero la possibilità di inserire i codici che troviamo su internet per poter inserire nuovi materiali ni 200 titanio ed infine acciaio entrando in acciaio ci darà la possibilità di scegliere i tre materiali disponibili il più usato il più comune il più classico è l'acciaio 316 ok gli diamo gli ok ci fa scegliere il nostro tipo di temperatura io scelgo gradi andando avanti come vi dicevo qui avremo la possibilità di alzare o abbassare no sono in stato nel menu scusate qui ci dà la possibilità di alzare o abbassare i gradi qui la nostra lettura della resistenza ed infine il materiale rientriamo nel menu nella modalità mode richiediamo power ed effettivamente ritorna nelle impostazioni principali tre clic rientriamo nel menu modalità screen guy è praticamente il tema l'unico tema disponibile che snow wolf ci fa scegliere con futuri aggiornamenti avremo la possibilità quindi di poter scegliere vari temi tornando nella sezione screen nella funzionalità nella funzione brightness abbiamo dieci livelli di regolazione del colore io lo lascio più o meno a metà ok tornando avanti andando avanti tre volte clic e menu il set ovvero power saving o pre it e pre it sono praticamente la scelta dell'erogazione quindi software normal aldo oppure user nella modalità user abbiamo noi la possibilità a seconda del tipo di atomizzatori che abbiamo messo di andare ad impostare il nostro tipo la nostra erogazione che meglio riteniamo opportuna tre clic per entrare nel menu e alla fine usciamo allora come vi dicevo lo schermino il display i temi c'è solo questo nelle precedenti versioni che snow wolf ha prodotto ovvero vu fang e x fang vi faccio vedere i vari le varie colorazioni dei tre schermini la più bella che io ho notato era simu era sicuramente quella della vu fang poi tra x fang e m fang non è che abbia dato molto sfogo alla creatività per poter inserire un tema carino colorato abbastanza adeguato e il materiale della box è lega di zinco di alta qualità pc più abs io direi di andare a fare due svavate e considerazioni finali allora ragazzi la nuova versione di snow wolf la m fang sulla box la trovo molto solida un display molto molto semplice quindi ideale per chi si vuole approcciare con un kit per andare in cloud e fare vapore attenzione a quello che vi sto dicendo per fare vapore perché la produzione di vapore grazie a queste due coil è nettamente notevole per quanto riguarda invece la resa aromatica la trovo mediocre o quindi nella media visto che adesso il mercato sta proponendo nuovi atomizzatori nuove coil a mesh magari mi sarei aspettato che nel kit ci fosse anche una delle nuove coil a mesh so che si gelei però la fate e con una mia prossima recensione infatti vi proporrò l'atomizzatore che monterà appunto le mesh coil per il resto la box la trovo molto solida sono state prodotte tante tantissime colorazioni troverete sicuramente se il modello vi piace quella che più vi aggrada io ho voluto prendere questa perché era abbastanza sobria tra tutte le colorazioni però ci sono le versioni in carbonio e le versioni speciali come la mia una cosa sul display avrei magari preferito avere già sin da subito la scelta per un tema diverso da quello proposto me ne hai dato uno magari me ne davi due non dico una quantità esagerata me ne davi due almeno potevo scegliere se questo che mi davi di default mi piaceva o meno in effetti non è presente la lettura dei volt in relazione ai watt di quando svapo io che prettamente magari li vado sempre a vedere anche per avere una maggiore una giusta erogazione non vado mai a sorpassare i 4 e 4,2 volt questo in base anche a seconda del tipo di atomizzatore che vado a montare io trovo avrei trovato opportuno quindi andare ad inserire anche quelli per il resto l'atomizzatore a una piensa di 6 ml ragazzi che non è da sottovalutare io non spendo troppe parole per questa box io lascio a voi quindi un commento su cosa dire o su cosa pensare su questa nuova box di snow wolf vi ripeto è abbastanza compatta e non ci sono giochi di sportellino le calamite fanno un'ottima presa le due batterie 18 6 50 considerando che l'erogazione va intorno ai 70 agli 80 watt vengono gestite abbastanza bene io ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video vi invito a lasciare il like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale youtube allisvapo qualora non siete iscritti mi trovate anche su instagram basta fare una ricerca allisvapo lasciate un like sulla mia pagina facebook vi saluto e vi ringrazio ci vediamo alla mia prossima recensione saluto tutti quanti ciao mister nino